Salve, sono Mariangela Merola, siamo a Beado Mizzia con il signor Mirko Marino, responsabile dell'attività Mirkotto Takeaway. Una giovane attività, chiediamo qualcosa al responsabile, precisamente che attività svolge e che obiettivi si propone. Diciamo che questa attività è nata quest'anno, che noi ci sono già dieci anni che però lavoro esercito su Beado Mizzia con un supermercato. Questa è un'attività nata quest'anno un po' per gioco, un po' per scommesse, che comunque a Beado Mizzia mancava questo servizio. Un servizio di ristoro d'asporto, primi, secondi, contorni, vari tipi di panini e diciamo anche feste per compleanni e cene private. Tutto viene servito da sport, diciamo tutto da portare. È un servizio che abbiamo deciso di dare alla popolazione, diciamo i turisti che vengono. Senta, che difficoltà ha avuto nell'interprendere questa attività e lei che cosa si aspetta dalla politica regionale della Campania? La difficoltà quasi sempre purtroppo come in tutti gli ambiti, se non un po' dal punto di vista burocratico, senza che comunque abbiamo riscontrato difficoltà nella procedura delle carte, dei documenti e tutto. Per quanto riguarda la politica regionale, mi aspetta e comunque spero che lì si inserirà, il nuovo presidente farà qualcosa di più per il turismo, perché comunque la Campania pensa che il 70% è formato da turismo. Grazie, in bocca al lupo per la sua attività.